Parlaci di come sei entrato in contatto con le mie guide Bella domanda Devo ricordarmelo, sai? Allora, ho un momento in cui probabilmente per la prima volta le ho sentite Però devo fare uno sforzo di memoria Perché per me adesso sono talmente tanto normali Che ricordare la prima volta non è facile Io purtroppo una cosa che ho sempre consigliato a tutti È quella di È quella di Di avere un diario E di scrivere tutti i vostri momenti importanti Perché poi si perdono Poi si perdono Io ho dimenticato molti dei miei momenti Soprattutto poi quando ci sono delle nuove consapevolezze Perché le nuove consapevolezze hanno una cosa particolare Le nuove consapevolezze cancellano O meglio non cancellano ma Distorcono il passato Cioè ci sono delle cose che per me oggi sono assolutamente così E So che prima non erano così Ma non ricordo perché Cioè oggi io so il processo che mi ha portato A questa nuova consapevolezza Ma fino a qualche anno fa O fino a qualche giorno fa Io ero convinto di tutt'altro Solo che se voi mi chiedeste Come mai eri convinto di quel qualcos'altro Qual è il processo che ti portò ad arrivare a quello Non lo ricordo Cioè la mente per me oggi è così Io ricordo una volta All'interno di un corso che facevo Che non avevo fatto per quasi un anno E io nel frattempo ero andato avanti con le mie consapevolezze Non l'avevo rivisto Ero andato in scena e ho fatto il corso A un certo punto esce una slide Di cui io non ricordavo assolutamente perché l'avessi messa Cioè in quella slide c'era una cosa che io la vidi e dissi Ma non è così Che cazzo gli racconto mo questi E in quel momento Cercavo Nella mia memoria Quale fu il processo che mi portò a quella slide Non lo trovavo Ed era un corso che facevo l'anno prima Ma ne ha Sette, otto mesi prima Qui la mia mente aveva completamente Eliminato Quel vecchio processo e quella vecchia convinzione Perché era amici Ok quella roba lì È come quando scopri che Babbo Natale non esiste più Cioè Babbo Natale non esiste più Basta Non sto lì a dire Ma tu come fai a essersi Come facevi tu prima a pensare che esistesse Ma che cazzo ne so Non esiste Basta Chi si va a ricordà Ed è così Quando io scopro qualcosa di nuovo Il vecchio viene cancellato Poi probabilmente nella memoria c'è In uno stato alterato di coscienza si riesce anche a recuperare Ma non lo so Non lo so Quindi oggi tu mi dici Come si entrava in contatto alle tue guide Ci devo lavorare Perché è il momento esatto Ho una scena in mente a questa domanda Ma dovrei ritornarci Perché è successo tanto tanto tempo fa E Ricordo che fu una coaching con una mia amica E ricordo che per la prima volta Percepì Era un po' E ho detto io non sento le voci Tranne in questi casi Un po' come per il libro E lì le senti In una determinata maniera E mi resi conto E ho detto ma che c'ho la gente che mi parla Infatti fu stranissimo Perché quella volta Quando entrai in contatto con queste guide Io mi girai proprio Cioè io senti la voce e mi girai Che per me è un'allucinazione sonora Mi è capitato raramente Perché poi Comunicano in maniera diversa Cioè poi ti si abitui Ed è una cosa normale Oggi come oggi E' più come intuizione E' difficilissimo che senta voci Cioè se sento le voci vuol dire proprio Dovrei andare sotto psicofarma Se sento voci vuol dire proprio che Non li ho sentiti Non li ho percepiti in altre maniere Grazie a tutti